La prima gara dal 2006 e la loro 4 medalistiche nei ultimi 5 tornazioni, la Svizzera verrà stato il più forte team nel 2013 World Championship. La parte del track runner non ha impressionato molto nella round preliminare, avendo avuto due difetti contro la Svizzera e il Canada, ma avendo avuto un anno con due attività di qualità di qualità, come i Zedin brothers. 4 gol e 5 assist in solo 4 game per Henrik, 1 e 5 assist per Daniel. Ma il scorso scorso era Louis Eriksson, che ha avuto 5 volte e ha avuto 5 assist per la via della gloria. La difesa resta in grande forma dal principio al fine. Fransson, Tallinder e Hedler hanno dato una grande contribuzione, e Jonas Enroth ha portato la squadra alla medalistica con 1,15 gol contro l'avviso. Finalmente, vincere a casa non è mai facile. La Svizzera ha avuto un lungo ruolo per una nazione proposta. La Unione Sovietica era l'ultima team per essere riuscita a casa nel 1986. Il corso è finito nella Arena Globo, quasi 30 anni dopo. Ciao!